la detersione quotidiana è fondamentale per la salute e la bellezza della nostra pelle rimuovere il makeup e detergere accuratamente i tessuti non solo aiuta a prevenire la comparsa di inestetismi ma è un'occasione per dedicare del tempo a noi stessi la linea purple clean è la collezione di prodotti nati dedicati alla detersione in cui la sinergia di acqua biotecnologica con ingredienti ad azione lenitiva e purificante regala una pelle pulita tonica fresca e pronta a ricevere i trattamenti successivi applica come un'esperta iniziare la detersione rimuovendo il makeup con purple clean makeup remover natural bifase agitare prima dell'uso per miscelare la formula bifasica successivamente imbibire un dischetto di cotone e frizionare delicatamente su viso palpebre e labbra una volta rimosso il makeup procedere con l'applicazione di purple clean latte detergente su viso collo e decolletè con movimenti circolari per emulsionare impurità e sebo in eccesso rimuovere con spugnette o dischetti di cotone inumiditi procedere applicando sul palmo della mano una o due erogazioni di purple clean purity soap massaggiare il prodotto su tutto il viso sino a creare una morbida schiuma lasciare in posa per un minuto poi risciacquare con abbondante acqua per eliminare le impurità residue due o tre volte a settimana applicare good morning maschera viso gommage enzimatica al caffè lasciare in posa per due tre minuti poi rimuovere con gesti circolari per favorire l'azione levigante imbibire un dischetto di cotone di purple clean distillato di fiori passare accuratamente su viso collo e decolletè in seguito picchiettare le stesse aree per rinfrescare e tonificare la pelle concludere la routine di detersione applicando la crema o il fluido viso consigliati dalla propria estetista nati picchiettare le stesse aree per rinfrescare e tonificare la pelle che si può essere